eccoci allora ancora grazie a tutti e a tutte continuiamo le lezioni della scuola interdisciplinare cosmopolita e come sempre questa registrazione verrà poi messa sul sito di transforme italia e do subito la parola a Piero bevi l'acqua per la presentazione della lezione odierna con Guido Iale a te Piero vi ricordo perdonatemi di chiudere i microfoni perché avete tutti i microfoni aperti potete interferire con chi sta parlando non è una cosa simpatico grazie 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 Roberto allora immediatamente entriamo diciamo nel tema della serata che come sapete ha per titolo la crisi ambientale e l'economia della cura allora ricordo molto brevemente che Guido Iale è oggi un noto sociologo che è emerso molto precocemente sulla scena pubblica nel 1968 come leader del movimento studentesco a Torino e poi come dirigente di lotta continua un movimento su cui di recente ha scritto cose circostanziate e appassionate è una scena pubblica che Guido Iale non ha più abbandonato non l'ha abbandonato come saggista e analista del nostro tempo devo aggiungere un'altra considerazione Guido Iale è una delle rarissime figure di intellettuale che con grande coerenza tenuto insieme è riuscito a tenere insieme l'analisi fondata scientificamente delle questioni economiche e sociali del nostro tempo con l'impegno civile anche politico volto a realizzare le idee elaborate come studioso lo dico perché diciamo è davvero un esempio che noi dovremmo additare alle nuove generazioni sono ai pochi giovani e me che ci ascoltano perché è un modello di cittadino colto davvero esemplare allora ricordo che della sua vasta produzione saggistica solo alcuni saggi alcuni liberi relativi al tema di questa sera ricordo un mondo usa e getta la civiltà dei rifiuti e rifiuti della civiltà Feltrinelli 2008 però devo ricordare che Guido è stato uno dei primi già alla fine degli anni 90 a occuparsi del tema rilevantissimo dei rifiuti ignorato ignorato dalla cultura italiana appunto che non si occupa della spazzatura poi non ne parliamo del giornalismo si è poi occupato dell'automobile ricordo qui ricordo uno dei primi lavori tutti in taxi demonologia dell'automobile Feltrinelli 1996 poi di nuovo è ritornato ma questo lo ha fatto sempre su questi temi con molteplici interventi libri analisi vita e morte dell'automobile la mobilità che viene bollate i boringhieri 2007 poi più avanti la civiltà del riuso riparare riutilizzare ridurre la terza allora come sempre i lavori di Viale sono ricchi di informazione di analisi ma contengono anche indicazioni di alternativa per esempio si vede benissimo nella conversione ecologica there is no alternative NDA press 2011 non c'è alternativa alla conversione ecologica non c'è alternativa come voleva la Thatcher al mondo capitalistico presente ricordo questo ultimo il suo ultimo lavoro da cui diciamo tra in poi ispirazione la lezione di questa sera che è dal lavoro alla cura risanare la terra per guarire insieme è un piccolo libro ma denso e importante in cui l'autore smonta diciamo l'argomento della dignità del lavoro mostra al contrario che il lavoro oggi soprattutto è perdita di dignità e sfruttamento e abbassamento diciamo morale del cittadino lavoratore accompagnato peraltro in tantissimi casi dalla povertà, dalla povertà sociale e quindi esprime, esprime, elabora un'altra possibilità di mondo che è dato da una nuova concezione del nostro rapporto con gli altri e con il pianeta cioè un atteggiamento di cura un atteggiamento di solidarietà allora finisco diciamo svolgendo una considerazione su una caratteristica che io ritrovo nei lavori di Guido Viale cioè lui ha sempre analizzato il capitalismo contemporaneo facendolo non in maniera generica diciamo con un'elaborazione teorica, generale e astratta ma prendendo di mira alcuni nodi fondamentali alcuni li ho mostrati c'è il traffico automobilistico lo smog, i rifiuti e così via cercando anche di dare soluzioni realizzabili dal potere politico e amministrativo ma senza mai perdere di vista la visione generale lui è sempre più consapevole e questo ultimo libro lo dimostra che naturalmente l'obiettivo è cambiare il sistema capitalistico nella sua totalità, nella sua globalità ma naturalmente questo non si può fare in un giorno bisogna diciamo accettare un processo democratico di trasformazione della società esistente e i libri, le analisi, gli studi come quelli di Viale sono veramente indispensabili a te Guido Buonasera, intanto grazie di avermi invitato a questo incontro siccome mi ero preparato alla lezione da tempo e poi l'ho dovuta rimandare per degli impegni probabilmente mi toccherà ripetere alcune cose o ritornare su alcuni argomenti che sono già stati trattati precedentemente e da altri che hanno preso parte in questi incontri cercherò di essere il più breve possibile e sintetico per non essere noioso intanto la prendo da lontano cioè che cosa significa cura quando parliamo di economia o di società della cura io ho preso una definizione non in manutenza letterale ma in interpretazione che ne ho dato da un breve scritto di Elena Pulcini una valente sociologa e ricercatrice che purtroppo è mancata l'anno scorso per causa del Covid cura e assumere la responsabilità per qualcuno o qualche cosa in un contesto di reciprocità e qui evidentemente il concetto importante è quello di reciprocità che presuppone un destinatario non un destinatario inerte ma un soggetto attivo che reagisce alla nostra cura e che a stavolta instaura un rapporto di cura o di incuria nei nostri confronti e questo contesto di reciprocità fa della cura non solo un comportamento individuale e neanche solo una struttura sociale rispetto agli esseri umani ma un orizzonte direi ontologico comunque culturale che abbraccia tutti gli esseri viventi e il loro mondo e che in tale contesto vengono riconosciuti come attori capaci, ancorché non consapevoli di azioni e di reazioni al pari degli esseri umani per capire come mai la cura è diventata centrale nel contesto di un mondo e di un'epoca che sono dominati dalla crisi climatica e ambientale bisogna capire a che cosa la cura si contrappone cioè che cos'è l'incuria considerata anch'essa non come un comportamento individuale ma come una struttura sociale e anche qui un orizzonte ontologico e l'incuria secondo me è il tratto costitutivo della modernità se vogliamo modernità è un termine elegante per chiamare il capitalismo quando non lo si vuole nominare il capitalismo moderno soprattutto cioè entrambi sono comparsi in occidente a far simbolicamente data dal 1492 cioè dalla conquista detta anche la scoperta delle Americhe e dalla nascita del colonialismo colonialismo condizione secondo me imprescindibile del successivo sviluppo del capitalismo l'espressione più profonda e esaustiva di questa dell'incuria è secondo me rappresentata dal pensiero di Cartesio cioè della sua distinzione fra res cogitans e re existenza tra pensiero e materia fra lo spirito prerogativa dell'uomo dominatore implicitamente l'uomo bianco l'uomo maschio l'uomo europeo e la materia inerte a cui però non nel pensiero di Cartesio ma nella sua epoca venivano ricondotti erano già stati ricondotti tutti gli altri esseri che popolano la terra cioè non solo le piante e gli animali ma anche i selvaggi cioè la popolazione indigene delle nuove colonie e anche le donne come vedremo questa dissociazione era stata resa possibile dagli sviluppi della scienza moderna perché con Galileo si era affermato il progetto di analizzare il mondo come se fosse scritto in caratteri matematici cioè in termini esclusivamente quantitativi riconducendo alla quantità anche tutte le qualità e poi dopo Cartesio è venuto Newton che avrebbe definito le regole fondamentali della meccanica classica attraverso le leggi del moto e con Newton si afferma una visione dell'universo come di un'enorme macchina scusate ho perso il filo allora l'espressione più chiara e espressiva di come veniva concepita in quell'epoca e poi necessariamente successivamente l'avvento della scienza moderna è stata da Francesco Botcone che nel Novum Organum del 1620 addirittura usava delle espressioni sono già state citate in una di queste lezioni dicendo che la natura doveva essere rincorsa nelle sue peregrinazioni costretta a servire essere resa schiava doveva essere messa in ceppi e lo scopo dello scienziato era strappare con la tortura i suoi segreti gran parte di queste espressioni e di queste immagini pare che sono dovute al fatto che Bacone direttamente o forse indirettamente dato che era un giudice aveva partecipato anche a dei processi per stregoneria che in quell'epoca erano parecchio frequenti conosceva per esperienza pratica diretta i processi alle streghe che fanno da modello in modo in cui lui pensa di strappare i segreti della natura e di donne di fatto le donne fino ad allora erano state le custodi di una cultura della cura che era basata su rimedi naturali e sull'alimentazione e che sanciva una continuità tra la salute umana e la vita dell'ambiente circostante la nuova scienza medica invece interamente coltivata e affidata ai medici maschi sanciva anche nell'abbigliamento nelle maschere vi ricordate quelle maschere con il becco dietro cui si nascondevano i medici maschi che la utilizzava una presidio di quella separazione radicale tra i detentori del nuovo sapere i loro pazienti e l'ambiente esterno ma i principali materiali inerti su cui il capitalismo ha potuto contare per affermarsi nel mondo era costituito dalle risorse materiali e dalle risorse umane messe a disposizione della conquista del nuovo mondo una è la tratta degli schiavi la schiavitù era stata una componente essenziale è stata una componente essenziale dell'accumulazione originaria non sarebbe stato possibile un ricorso esteso alla tratta degli schiavi se il pensiero moderno non avesse posto le premesse per considerare la forza brutta della manodopera alla strega di qualsiasi altro materiale fornito dalla materia e anche le recinzioni dei terreni non coltivati o di vita ad uso comune dalla collettività operate fra il sedicesimo e il diciottesimo secolo da parte dei grandi proprietari terrieri inglesi hanno permesso la coltivazione intensiva dei campi dando vita alla rivoluzione agraria ma anche la terra in questo modo era diventata materia inerte a disposizione dell'estrattivismo qui c'è il primo libro che ho citato nell'ultima missiva che vi ho mandato consiglio a tutti naturalmente la lettura di questo libro di Silvia Federici io uso un'edizione del 2004 la stretta connessione tra la caccia e le streghe lo schiavismo il patriarcato come condizioni per l'affermazione dell'affermazione del capitalismo viene trattata proprio in questo libro che è frutto di una lunga riflessione elaborazione di tutto il movimento femminista di cui si dirige una rappresentante esemplare anche la rivoluzione industriale che ha investito l'Inghilterra soprattutto tra la fine del settecento e concludendosi grossomodo intorno a metà del secolo dell'ottocento ha affermato in termini pratici e non più solo teorici una separazione radicale dei principali processi produttivi dai cicli organici che presiedono la riproduzione vivente ricordiamoci che fino a prima della invenzione della macchina a vapore la forza motrice principale oltre a quella degli animali era quella delle acque mentre dalla rivoluzione industriale in poi il carbone ha preso il sopravvento ma alla base della rivoluzione industriale c'è stata una disponibilità apparentemente illimitata di materie prime sia rinnovabili come ferro e carbone che non rinnovabili come cotone o canna da zucchero e altri materiali e alla base di questi ultimi il lavoro degli schiavi nella sua marcia trionfante il capitalismo ha continuato a sottomettere al suo dominio sempre nuovi ambiti del mondo della natura e della vita Carlo Marx è stato il primo che ha visto nell'avvento del capitalismo la capacità di trasformare in merce qualsiasi entità non soltanto i beni materiali e le risorse ma anche i beni spirituali la scienza la coscienza l'opinione e così via la critica dell'economia politica che era l'obiettivo fondamentale di Marx ma anche le teorie degli economisti precedenti che l'avano preceduto in particolare Riccardo e Marx avevano instaurato una netta distinzione tra il valore l'uso e il valore di scambio il valore l'uso è ciò che rende un bene o una merce utile per l'essere umano il valore di scambio è ciò che dà un valore economico e un prezzo conseguentemente ai beni che vengono scambiati e in ultima analisi la fonte del lavoro di scambio era il lavoro l'economia successiva quella neoclassica ha cercato di abolire questa distinzione e ha cercato di ricondurre la formazione del valore di scambio al valore d'uso cioè all'offilinità o l'utilità che i beni avevano per chi ricomprava e in questo modo tutto il mondo diventa risorsa il valore dipende esclusivamente della sua utilità chi ha messo in luce fondamentalmente questo atteggiamento dell'uomo moderno nei confronti del mondo del resto del mondo sia il mondo reale che il mondo possibile è stato Heidegger indubbiamente che ha presentato fatto sì che ha presentato l'uomo moderno come colui che si pone di fronte alla realtà come di fronte a un fondo best standing il termine inglese sempre disponibile per essere utilizzato best standing è un termine che usa Heidegger sostanzialmente significa giacenza dotazione patrimonio sostanza però una parola significa risorsa e chi ha messo in luce pochi anni dopo queste tesi di Heidegger compaiono nella questione della tecnica che è del 1950 già nel 1980 Carolyn Marchant aveva spiegato che le radici storiche filosofiche alla base di una crescita capitalistica incontrollata e di un'espressione illimitata vanno ricercate della riconcettualizzazione moderna della realtà quale ordigno meccanico Newton matematico Galilei senza timore di svelare il lato oscuro della cosiddetta rivoluzione scientifica per troppo tempo fideisticamente osannata difatti ridurre la natura a materia inerte passiva considerarla come permeata di sole proprietà quantitative ha implicato e evidente dice la Merchant una drastica rottura rispetto al modello vitalistico rinascimentale questa disponibilità incondizionata delle risorse e della terra viene messa in discussione per la prima volta a livello ufficiale con un testo che ha avuto una vasta risonanza nel mondo però secondo me scarsissima influenza poi sul comportamento dei governanti dei centi dirigenti a cui era rivolta con il primo rapporto del Club di Roma i limiti dello sviluppo che del 1972 un team di esperti del Massachusetts Institute of Technology MIT ha sentito il bisogno di avvertire il mondo che una crescita infinita non era più possibile e che anzi molte delle risorse utilizzate in processi industriali erano prossime al loro esaurimento quello che è interessante che viene spesso dimenticato è che vent'anni dopo questi stessi autori sono ritornati sull'argomento con un testo poi sono ritornati altri venti anni dopo su questo ma non ne parliamo nel 1992 hanno ripreso questo rapporto e risposto alle critiche che erano state sollevate contro il loro avvertimento che era frutto peraltro di un modello quantitativo che cercava di tenere conto del maggior numero possibile di variabili per vedere per analizzare le potenzialità del futuro del mondo nel testo nel rapporto oltre i limiti dello sviluppo riconoscono la validità di alcune delle critiche che erano state rivolte alla tesi che l'esaurimento delle principali risorse su cui si basava lo sviluppo industriale era prossimo a una soglia di non ritorno e dicono effettivamente che attraverso la riduzione dell'utilizzo dei materiali la riduzione delle dimensioni dei materiali stessi il riciclo la scoperta di nuove risorse la sostituzione di un materiale con l'altro i limiti che avevano temporali che avevano posti ricordiamoci che per il petrolio ponevano un limite massimo alla crescita nel 2006 questo è stato indubbiamente smentito non era più dato dall'esaurimento delle risorse disponibili ma dalla saturazione delle matrici dei corpi a cui affidiamo gli scarti cioè la produzione di rifiuti che diventa il tema centrale della crisi ambientale e tra l'altro il primo di questi scarti è ovviamente la CO2 che è il prodotto di qualsiasi processo di combustione e quindi alla base di tutti i processi sostanzialmente di tutti i processi industriali e ormai questo avvertimento del 1990 avviene quando la crisi climatica è in pieno corso due anni dopo ci sarà il sumite della terra a Rio de Janeiro e quindi di fronte a questa crisi che è stata messa in luce soprattutto attraverso quello schema che è più recente ma su cui vale la pena di ritornare che è il Planetary Boundaries che è stato elaborato sostanzialmente dalla NASA che fa vedere come per molti settori della processi industriali e della vita sociale che si svolge sul pianeta i limiti della sopportabilità della portabilità della sostenibilità sono già stati superati per altri siamo prossimi a quei limiti e quindi è necessario provare a cercare di rientrare che cosa vuol dire rientrare entro i limiti e beh sostanzialmente vuol dire una cosa molto importante l'abbandono dell'antropocentrismo cioè abbandonare quella cultura propria della modernità che ha messo l'essere umano al centro dell'universo e ha fatto di tutto il resto del mondo semplicemente un materiale inerte al suo servizio al servizio delle sue esigenze ma dietro all'abbandono dell'antropocentrismo compare anche la necessità di abbandonare l'androgeocentrismo cioè cogliere il nestro tra la modernità e il modo in cui la cultura patriarcale che naturalmente è molto più antica del capitalismo che della modernità però nel capitalismo ha cancellato l'impronta della storia nella storia delle donne l'impronta data da quel rapporto di continuità e contiguità tra gli esseri umani e il resto del mondo che permetteva di accostarsi alla natura come a un tutto dotato di una vita propria a questo cambio di prospettiva ovviamente il contributo maggiore è stato dato dal femminismo e da quel particolare filone del femminismo che oggi porta il nome di ecofeminismo ma altri contributi fondamentali a cambiare la prospettiva nei confronti dell'approccio al mondo della modernità è venuto sicuramente dal libro New Look at Life on Earth cioè dalla elaborazione del concetto di Gaia fatto già James Lovelock insieme alla biologa Lane Margulis che è stato pubblicato nel 1979 e in esso si analizza la Terra come un organismo unitario dotato di una propria feedback cioè che gli permette di una propria resilienza che permette di riconquistare la forma originaria e di restituirla agli ecosistemi attraverso dei meccanismi appunto di retroazione che coincidono con quello che costituiscono la fonte fondamentale della vita un contributo maggior simile alla visione olistica del mondo che riprende l'ipotesi di Gaia è data appunto dal libro di Bruno Latour che anche vi ho citato che è uscito soltanto mi pare due anni fa l'ipotesi di Gaia mette secondo Latour e io concordo con lui radicalmente in discussione quella dicotomia fra materie e spirito tra natura e cultura che è il paradigma secondo lui il paradigma della modernità paradigma che non è mai stato realizzato infatti Latour ha scritto già precedentemente un libro non siamo mai stati moderni perché spiega che nonostante tutta l'elaborazione filosofica della modernità sia stata incentrata e caratterizzata dal tentativo di tracciare una netta linea di demarcazione tra lo spirito e la natura fra l'uomo e il resto del mondo in realtà se si vanno ad analizzare i processi di elaborazione della cultura scientifica si vede che il rapporto dell'uomo con gli strumenti che ha utilizzato per svolgere la sua ricerca scientifica ne fanno un ibrido cioè qualcosa in cui natura e spirito sono indissolubbamente legati e infinitivi e cioè l'ipotesi Gaia mettendo in crisi il paradigma della modernità ristabilisce una continuità ontologica tra l'essere umano e il resto del mondo un contributo essenziale a questo l'affermazione di questo approccio è dato anche dall'antropologia contemporanea che valorizza in questo senso lo studio di culture indigine che non conoscono questa separazione in particolare quelle dell'Ammazzonia anche da questo punto di vista uno dei testi di riferimento fondamentale è quello di Filippo Escola oltre natura e cultura che vi ho citato nella bibliografia che ho mandato ma questo è anche il messaggio dell'enciclica Laudato sì di Papa Francesco il cui sottotitolo è sulla cura della casa comune la casa comune è il mondo nella sua indissolubile unità di età e interconnessione tutto nel mondo è connesso dice Papa Francesco e anche Papa Francesco con il sinodo dell'Amazzonia ha pagato un suo debito verso la riscoperta del rapporto di contiguità fra gli esseri umani e il mondo questa contiguità sta alla base di tutta l'enciclica Laudato sì siamo fatti della stessa materia di tutto il resto del mondo di tutti gli esseri viventi insiste Papa Francesco non siamo fatti per dominare gli altri esseri viventi come l'interpretazione tradizionale della Bibbia e in particolare di quel passo della Genesi in cui Dio affida all'uomo il dominio e il controllo del resto del vivente Papa Francesco lo interpreta in una maniera completamente differente non ha affidato il dominio ma la custodia cioè noi siamo responsabili della sopravvivenza e della continuità della vita in questo mondo la manifestazione una delle manifestazioni principali di questo cambiamento di orientamento nella vita quotidiana è il concetto di One Health che è stato adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che purtroppo è ben lungi dall'essere applicato nella pratica della medicina moderna ma sostanzialmente One Planet One Health vuol dire che curare la salute occuparsi e curare la salute dell'uomo non può essere fatto a prescindere dalla cura della salute dell'ambiente in cui noi viviamo cioè della natura del resto del mondo e viceversa soltanto una umanità sana e quindi capace di integrarsi con il resto del mondo è in grado di prendersi cura del resto del mondo quindi di quello che la modernità ha chiamato natura senza pregiudicare la sua possibile rigenerazione Un'altra manifestazione molto importante che riguarda la vita quotidiana e che denota una ricezione di questa perlomeno una percezione di questa crisi del paradigma della modernità è l'antispecismo in particolare il vegetarianesimo e il veganesimo ma non solo è una svolta culturale che riscontriamo nella diffusione della cultura animalista soprattutto fra le giovani generazioni più esposte alla crisi ambientale e più sensibili alle esigenze che essa pone è la cura aspettate un attimo che penso di nuovo in filo un'espressione letteraria cioè non è un romanzo ma quasi di questa integrazione del mondo della natura nella vita degli uomini degli esseri umani e nel sviluppo della storia è stato tentato per esempio da vari scrittori ma il più recente probabilmente è questo testo di Amitav Ghost la maledizione della noce moscata dove l'intervento della terra e del vivente non umano nelle vicende umane si fa narrazione come natura risorsa è inerte per i colonizzatori che vi vedono semplicemente qualcosa da sfruttare in particolare nell'albero della noce moscata ma invece segnala una continuità e una contiguità convivente per tutti i popoli colonizzati e quindi fa vedere completamente come lo scontro di queste due culture si sono intrecciate proprio nel modo in cui la noce è moscata cioè una piccola parte delle spezie che hanno costituito uno degli obiettivi principali del colonialismo nel quindicesimo nel sedicesimo e diciassettesimo secolo ha determinato gli sviluppi storici però anche il messaggio di fondo dell'enciclica anche Papa Francesco ha pagato il suo tributo alla cultura amazzonica che ha costituito una fonte importante dell'enciclica laudato sì con il sitodo sull'amazzonia di cui vi invito a leggere i documenti preparatori perché sono incentrati tutto sul concetto di inculturazione cioè sul tentativo di innestare la parte diciamo positiva della cultura occidentale quella di cui sono stati portatori anche magari contro le loro intenzioni i colonizzatori dentro le forme e le manifestazioni della cultura tradizionale compreso il cristianesimo insomma di cui Papa Francesco predica il proselitismo ma nel rispetto delle culture tradizionali l'abbiamo visto molto bene nei costumi che indossavano i rappresentanti delle popolazioni amazzoniche durante il sinodo sull'Amazzonia che si era svolta due anni fa in Vaticano l'alternativa alla cultura del dominio sulla natura che ha caratterizzato la modernità è appunto la cultura della cura e se vogliamo l'economia della cura se vogliamo ristringerla sicuramente agli aspetti più nettamente produttive in rapporto con le cosiddette risorse e la terra la cura è il lavoro di cura che ne consegue hanno uno dell'ultimo libro che vi ho citato nella biografia è questo manifesto della cura che è stato scritto da un collettivo inglese di femminista e che è stato tradotto nelle edizioni Allegri e che appunto esprime in maniera più radicale ma facendo a vedere come questa rottura con la cultura della modernità si inesta proprio nell'evoluzione del pensiero femminista ed è quindi per quello un testo molto importante la cura e il lavoro di cura hanno tanti aspetti diversi quello più immediato sono le cure domestiche familiari l'allevamento dei figli e la cura parentale l'altra sono ovviamente le cure mediche della salute il terzo sicuramente l'insegnamento e il quarto sono tutte le attività rivolte alla promozione della socialità questo è l'aspetto delle cure quando è rivolta alle persone fisiche poi c'è una cura delle cose la cura delle cose e la manutenzione è anche una componente essenziale della cura delle persone perché aiutare a far funzionare a tenere in vita quelle che già si ha è un aiuto che viene molto grosso che viene portato alle persone invece di costringerle a comprare sempre cose nuove perché quelle vecchie non funzionano più e non sappiamo come ripararle poi c'è la cura degli eventi che ovviamente è la cura della vita animale ma anche la cura della vita vegetale e qui rientra gran parte della vita agricola quando è fondata su una cultura sull'innesto tra i ritrovati della scienza agricola dell'agrimenzione moderna con la salvaguardia delle pratiche e di alcune culture tradizionali quella su cui Petrini insiste molto ma mi pare anche Piero Bevilacqua poi c'è la cura del territorio perché la cura del territorio in cui si abita è quella che crea comunità cioè attraverso ovviamente la cura delle persone la cura del vivente e la cura degli oggetti la loro manutenzione la cura del territorio che anche qui consiste in gran parte nella sua manutenzione crea comunità non lo si può fare singolarmente lo si può fare soltanto se ci si mette insieme e la cura del pianeta è la conversione ecologica la cura del pianeta non è nient'altro che la cura del territorio fatta da tutti gli esseri umani o dalla maggior parte di essi e però è ciò che può concorrere alla cura di tutto il pianeta la salvaguardia delle condizioni della vita umana e non umana sul pianeta e questa cura è quello che si chiama conversione ecologica ne parlava Alex Langer ne riparla l'enciclo che ha laudato sì e la conversione ecologica per Alex Langer ha un aspetto soggettivo personale spirituale che si traduce nell'adozione di uno stile di vita ispirato alla sobrietà e un aspetto oggettivo sociale economico che si traduce un cambiamento radicale della produzione dei consumi e qui bisogna secondo me tracciare una netta linea di separazione tra ciò che comunemente si intende per transizione ecologica o addirittura in maniera ristretta energetica di conversione ecologica la transizione così come viene concepita nei documenti ufficiali e il passaggio a uno stadio più avanzato dello stesso percorso la conversione invece è un'inversione di marcia completa rispetto alla direzione che lo sviluppo economico ha avuto fino adesso la transizione economica non mette in discussione mai la crescita e lo sviluppo la conversione ecologica invece mette al centro la salvaguardia delle condizioni di riproducibilità e di rigenerazione di tutto il vivente prima viene la salvaguardia della riproducibilità del vivente del fatto che gli ecosistemi la vita all'interno degli ecosistemi non venga interrotta attraverso l'interruzione della catena crofici alimentari la transizione ecologica penso semplicemente che bisogna trovare una maniera meno impattante di promuovere e mandare avanti lo sviluppo i fautori per i fautori della crescita l'ambiente il concetto di ambiente mantiene quella distinzione ontologica e quella controposizione di fatto tra gli esseri umani e il resto del mondo visto esclusivamente come materia brutta da utilizzare per l'ecologia integrale invece proprio quella promossa dall'enciclica laudato si non si può affrontare nessuna delle questioni proprie della vita umana indipendentemente dal contesto fisico e biologico in cui si presentano e quindi la giustizia sociale e la giustizia ambientale sono indissolubilmente legate senza garantire al mondo della natura la sua riproducibilità non è possibile perseguire nessuno degli obiettivi di giustizia e di eguaglianza fra gli uomini la transizione ecologica così chiamata ecologica non lo è non mette in discussione il carattere individuale del consumo cioè si tratta di consumare merci meno impattanti ma il consumo è sempre un fatto individuale la conversione ecologica invece mira proprio a rendere il più possibile condivisi tutti gli aspetti principali della vita ovviamente nella nostra esperienza quotidiana la manifestazione più molti di noi conoscono meglio di questa condivisione sono i gas i gruppi di acquisto condiviso che non vuol dire comprare tutti le stesse cose ma vuol dire comprarle insieme cioè discutere prima di quali beni ci servono di come devono essere prodotti di dove si può andare a comprarli perché siano garantiscono certi standard ambientali ineludibili e soprattutto spingono in qualche modo creando una domanda effettiva uno sbocco di mercato spingono molti produttori adottare delle pratiche ambientali più compatibili perché questo gli permette di accedere dei mercati altrimenti raggiungibili la conversione ecologica e quindi la cura dell'economia della cura comporta un passaggio molto spesso dal grande al piccolo da ciò che è centralizzato a ciò che è distribuito da ciò che è concentrato a ciò che è diffuso da ciò che è gerartico a ciò che è partecipato dal globale non al solo locale ma al locale cioè al locale che tiene conto di vivere all'interno di un mondo ormai globalizzato dal competitivo al solidario lo si può vedere in tutti quanti gli ambiti economici io qua mi limito a citare esclusivamente il campo energetico che è quello oggi al centro dell'attenzione insieme all'agricoltura che è un'importanza probabilmente altrettanto grande se non maggiore allora l'economia fossile è fondata su grandi impianti grandi campi petroliferi grandi campi metaniferi grandi miniere di carbone sempre più a cielo aperto grandi strutture per trasportare queste risorse gli oleodotti i gasdotti le petroliere le navi carboniere le navi metaniere eccetera grandi impianti per utilizzarli gli impianti di generazione dell'energia elettrica gli impianti di raffinazione la rete distributiva del carburante e così via le fonti rinnovabili non escludono la concentrazione degli impianti infatti l'occupazione la preoccupazione maggiore del capitale che si vuole inserire nel settore delle energie rinnovabili quella di costruire grandi impianti grandissimi pianti elolici grandissimi impianti solari se voi percorrete a mezza costa tutta la riviera adriatica vedrete intere vallate coperte da pannelli solari i pannelli solari hanno la caratteristica invece di poter essere delle fonti di energia distribuita cioè ogni casa e ogni edificio dove esposta al sole può diventare una fonte di generazione elettrica e così pure anche l'energia eolica se sufficientemente distribuita e non concentrata può diventare una risorsa molto importante per una comunità geogetica per una comunità locale e così e quindi l'energia rinnovabile permette decentramente una distribuzione delle fonti rinnovabili in particolare la differenziazione cioè non c'è soltanto il petrolio il carbone il gas c'è il sole c'è il vento ci sono le maree ci sono le cadute d'acqua ci sono le biomasse quando disponibili e così via e ogni territorio ha un mix differente di possibilità di accedere a queste fonti lo dovrebbe sfruttare tutto ma sempre in maniera distribuita l'economia forse ha bisogno di grandi capitali per finanziare questi grandi impianti e quindi comporta necessariamente un accentramento del potere e la gerarchia dell'organizzazione della produzione le fonti rinnovabili naturalmente non escludono a priori una soluzione di questo genere come ho appena detto ma con l'energia distribuita permettono la costituzione di comunità energetiche cioè di comunità in cui è l'insieme dei partecipanti sia piccole imprese o medie imprese che singole utenze domestiche eccetera di mettersi o amministrazioni pubbliche di mettersi insieme per produrre in solido la propria energia e dipendere dalla rete semplicemente per compensare i momenti di sovrautilizzo ai momenti di sottoutilizzo l'economia fossile ovviamente è indissolubilmente legata alla crescita e all'accumulazione del capitale poiché è fondata sul sfruttamento delle risorse da parte del capitale l'accumulazione del capitale fa parte intrinseca della logica con cui viene attivata e messa in atto le forti rinnovabili invece hanno come finalità principale la salvaguardia dell'ambiente e della convivenza l'economia fossile è legata indubbiamente alla predazione delle risorse quindi alla guerra possiamo dire che tutte le guerre del ventesimo secolo e poi tutte le guerre di questo secolo sono in ultima analisi state scatenate dal desiderio di appropriarsi le risorse altrui dalla necessità di appropriarsi nel senso di che non si poteva mandare avanti lo sviluppo economico del paese che le conduceva le fonti rinnovabili sono fondate invece sulla valorizzazione e la manutenzione dei beni esistenti e quindi non sulla predazione dei beni altrui la manutenzione della cause si accompagna sempre alla manutenzione delle relazioni cioè non si può curare le cose se non si è non si vive in qualche maniera di una rete di relazioni che possono costituire la base di una vera e propria comunità basta pensare alla presenza o meno all'interno dell'ambiente in cui noi viviamo dell'esistenza di manutentori cioè di persone che sanno riparare i beni di cui noi disponiamo tutti i giorni dalle automobili agli elettori domestici ai mobili ai vestiti alle case alle abitazioni al territorio eccetera senza manutentori non c'è comunità con i manutentori si può creare una comunità e l'insieme di queste cose le creano comunità appunto in relazioni con il proprio territorio la manutenzione del pianeta e cioè la conversione ecologica a livello per l'Italia comincia proprio dalla manutenzione delle comunità e del suo territorio prima di concludere e venendo all'ultimo dei miei libri che Fiero ha citato cioè dal lavoro alla cura voglio presentare quella che secondo me è la concettualizzazione forse più scandalosa di tutto questo discorso che vi ho fatto fino adesso cioè che ne è del lavoro in una società o in un'economia o in una prospettiva fondata sulla cura e sul lavoro di cura allora nel capitalismo il lavoro non è che una risorsa è un fattore della produzione cioè come lo sono il capitale come sono la terra nell'economia classica e come lo è anche lo sono anche i saperi e le relazioni cioè il capitale umano nella concezione dell'economia contemporanea al lavoro come risorsa come fattore della produzione corrispondono i lavoratori una volta gli operai oggi tutti i tipi quasi tutti i tipi di lavoratori dipendenti la cui remunerazione è l'economia classica e il salario al capitale corrispondono gli imprenditori e quindi il profitto alla terra corrisponde una volta la proprietà finanziaria oggi soprattutto la proprietà terriera oggi soprattutto la finanza e il reddito della terra e la rendita al capitale umano corrisponde molto spesso ma non sempre l'auto impresa l'essere imprenditori di se stesso è un reddito che dalla statistica economica viene considerato a metà fra il salario e il profitto e il reddito ma la cosa importante è che lavoro e lavoratori non sono la stessa cosa il lavoro abbiamo detto è un fattore della produzione i lavoratori invece e le lavoratrici sono persone due cose completamente differenti purtroppo il linguaggio economico e sindacale e anche quello politico li identifica quante volte tutti noi senza riflettere siamo portati a utilizzare il termine lavoro per indicare i lavoratori le politiche del lavoro sono le politiche a favore dei lavoratori il fatto è che la dignità che viene attribuita al lavoro anche persino nella costituzione italiana dove si dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro c'era stata una disputa fra i padri costituenti su questo primo articolo perché le sinistre volevano che la costituente dichiarasse l'Italia la repubblica dei lavoratori come erano le repubbliche dell'est europeo annesse all'area di sovranità di controllo dell'Unione sovietica mentre la parte diciamo cattolica e moderata della costituente si è rapporta radicalmente a questa dizione e si era trovata un compromesso nel dire fondata sul lavoro ma la dignità non spetta al lavoro in quanto tale spetta ai lavoratori e alle lavoratrici sia a quelli che lottano o si adoperano per un giornale della propria condizione sia a quelli che comunque lavorano per cercare di mantenere e garantire la propria sopravvivenza e quella della propria famiglia ma non si può attribuire nessuna dignità al lavoro quando questo lavoro qua è nocivo cioè danneggia le persone che lo fanno danneggia le persone che vivono nelle vicinanze o in prossimità degli impianti dove si svolge un lavoro nocivo danneggia attraverso la produzione di beni nocivi cioè che danneggiano la salute fisica o mentale delle persone che le utilizzano tutti coloro che in qualche maniera finiscono per entrare in contatto con i prodotti di questo lavoro l'esempio maggiore ovviamente è quello dell'industria delle armi ma molte delle produzioni di gadget moderni che costituiscono uno dei settori principali dell'economia contemporanea è fatta di beni che danneggiano chi li utilizza e la stessa agricoltura industriale fondata su una chimica di guerra velenope che è dannosa sia per l'ambiente che per gli uomini ovviamente mette in circolazione dei prodotti che danneggiano chi poi li consuma e nel lavoro di chi è addetto a queste produzioni non c'è alcuna dignità nel lavoro nei lavoratori ovviamente che sono sottoposti a questo regime ovviamente la dignità c'è e come e qui veniamo se noi cerchiamo di rappresentare con in maniera grafica il rapporto fra economia della cura e economia capitalistica moderna così come si è configurata adesso vediamo che c'è in realtà un settore di sovrapposizione ci sono molti lavori di cura che sono retribuiti e quindi rientrano retribuiti e che sono gestiti da enti che operano come imprese quindi a fine di profitto e a fine di accumulazione del capitale che però concorrono in qualche maniera al benessere di chi è oggetto di quella cura l'esempio maggiore ovviamente sono le attività mediche ma anche l'educazione l'insegnamento la cura dell'ambiente eccetera molto spesso rientrano in questo campo ma ci sono invece una quantità oggi sicuramente maggioritaria di attività produttive che finalizzate alla produzione di beni e servizi che sono inutili oppure decisamente dannosi per chi fa e per chi ne subisce l'impatto ad esempio sempre quello madre sempre quello delle armi ma ovviamente non solo all'interno delle attività di cura vanno distinti poi i lavori domestici non retribuiti quelli tradizialmente affidati alle donne la cura della famiglia della prole della casa del privato e poi invece un'altra quantità enorme di attività di cura molto spesso svolte anche loro delle donne anche nei lavori di cura domestica il contributo degli uomini non è del tutto assente e in prospettiva è crescente sicuramente non ancora paritario con quello delle donne se non in casi eccezionali però è importante che i lavori di cura non vengano identificati esclusivamente con il lavoro domestico non retribuito ci sono attività di cura non retribuite altrettanto importanti che sono tutte quelle attività che concorrono a tenere in vita una comunità tutte le attività relazionali che in qualche maniera concorrono a far vivere una comunità e tenerla unita e quindi qual è la prospettiva di un'economia della cura è quella di una graduale riduzione di tutte le attività produttive inutili o dannose e di un ampliamento di quelle attività finalizzate alla cura dell'ambiente della comunità e delle persone in forma retribuita cioè che permettano di realizzare delle entrate di essere venduti di procurare se sono gestite nella forma di impresa un giusto profitto ma comunque di garantire una retribuzione anzi la pratica e questo compresa una parte dei lavori domestici diciamo che non siamo non sono personalmente molto favorevoli alla dizione salario al lavoro domestico perché molto spesso dietro una parola di questo genere si intende o si sottintende il fatto che il compito di attendere ai lavori domestici alla cura della famiglia deve continuare a competere alle donne semplicemente che devono essere pagate per restare chiuse nelle loro cucine non è questo che la economia della cura e la società della cura perseguisce persegue ovviamente quella di un'equa ripartizione dei compiti di cura domestica fra i due sessi e fra i partner di una coppia di una famiglia di una convivenza ma contemporaneamente che si diffonda all'interno della società la possibilità di avere retribuiti i lavori che concorrono al benessere della comunità o del territorio stesso e quindi di allargamento a capito del lavoro cosiddetto produttivo ma di beni e servizi che fanno danno di quella sfera invece delle attività che rientra nella cura e con questo io avrei finito la mia esposizione e vi ringrazio dell'ascolto e vi chiedo scusa se sono stato ripetitù grazie Guido una bellissima lezione sei riuscito a mettere insieme una vicenda storica secolare non facile da sintetizzare in pochi minuti con diciamo la proposta teorica e fattuale diciamo dell'economia della cura quindi il quadro mi pare completo e con tantissimi elementi di persuasività allora lascio la parola a chi vuole a chi vuole intervenire magari alzando la mano e comunque Roberto Morea dirige il traffico come al solito grazie Piero non ho al momento nessuno che ha chiesto di intervenire mi invito a farlo o in chat o alzando la mano direttamente in modo da visualizzarvi intanto vi ringrazio anche io Guido per questa interessa esposizione mi piacerebbe fare una domanda sì scusa vedo adesso la chat che ho parlato coprendomi la bocca e vi chiedo scusa me ne accorgevo perché stavo seguendo il mio testo su sì comunque non lo farò più ma ormai il danno è fatto la prossima Roberto se non ci sono richieste io prego Marina poi dopo la faccio io io ringrazio Guido Marina se puoi aprire anche la telecamera così purtroppo guarda oggi non ho trovato il computer adesso ci provo ma non so se ci riesco aspetta perché sto usando per la prima volta il telefonino in genere uso il mio computer portatile ma non l'ho trovato credo di averlo lasciato fuori mano e quindi adesso vai pure con la domanda non ti preoccupare non so ho provato ecco sì ecco mi vedete perfetto ok comunque metà ti vediamo molte suggestioni molti stimoli soprattutto nella prima parte ma non mi ci soffermo perché mi piacerebbe confrontarmi un po' meglio su alcune tematiche in relazione alla scienza come al solito addirittura insomma ho sentito citare Galilei Newton però ecco non mi soffermo su questo ma perché non voglio prendere troppo tempo e vorrei andare direttamente a una domanda un po' più dettagliata sulla questione energetica chiamiamola conversione o transizione io credo che è un problema semantico che dipende molto da come poi si contestualizza io ho sempre usato il termine transizione ma non per pensare a una continuità e senza mettere in discussione il sistema di produzione e di organizzazione da cui si parte per me la transizione è semplicemente un transire da un punto A a un punto B attraverso un percorso che può essere più o meno lineare ma che ti porta da uno stato iniziale a uno stato finale e sinceramente mi piace più di conversione perché conversione poi mi ricorda altri ambiti che non mi appartengono comunque la domanda sulla questione energetica è più che altro questa più che una domanda è una considerazione su cui mi vorrei confrontare siccome le tecnologie che abbiamo a disposizione sono un certo numero però non sono poi tante e quantitativamente facendo un po' di conti si vede che quelle principali sono le tecnologie legate al fotovoltaico e quelle legate all'eolico perché per quanto riguarda la produzione di energia elettrica dalla caduta di masse di acqua quindi l'idroelettrico è molto condizionato tutto questo alle possibilità di stare in un contesto ambientale dove questo è possibile e le situazioni sono molto limitate poi con la siccità a cui stiamo andando incontro si riducono ancora di più quindi sembrerebbe conti alla mano che anche le biomasse pongono non pochi problemi e comunque fornirebbero un contributo limitato rispetto alle possibilità del fotovoltaico e dell'eolico allora rispetto a questo io sono d'accordissimo sul fatto che queste tecnologie permettono una diffusione capillare quindi una decentrazione della possibilità di produrre di autoprodurre autoconsumare e quindi anche autogestire la la produzione e il consumo dell'energia però è anche vero che a questo ci sono dei grossi limiti e che il nostro fabbisogno energetico è talmente elevato e che e il fatto che i nostri agglomerati urbani siano così importanti enormi allora io penso anche soltanto alle città ai grandi condomini dove comunque le superfici a disposizione dei tetti non sono così estese e dove magari invece il fabbisogno di tante famiglie può essere elevato come al fatto che con la produzione di energia elettrica non dovremmo soddisfare soltanto i bisogni domestici ma dovremmo portare anche l'energia per la mobilità per i trasporti anche produrre forme di energia diverse per esempio produrre idrogeno laddove i mezzi di trasporto elettrici non è possibile penso alle grandi nave penso ai grandi mezzi di distribuzione di trasporto su ruota e che comunque richiedono che hanno masse enormi e quindi anche lì il problema dell'auto del mezzo elettrico non è semplice ci vuole idrogeno ma per pulire idrogeno per produrre idrogeno pulito ci vuole energia elettrica per fare l'elettrolisi e per in modo pulito quindi insomma quello che voglio dire è che non ce la prendiamo troppo con i grandi impianti perché servono pure quelli il problema è semmai avere un piano nazionale che questi grandi impianti sappia dove collocarli e in mano a chi collocarli perché non ce la caviamo altrimenti semplicemente con le comunità energetiche nelle sì nelle zone rurali possono anche avere un e comunque dipendono queste qui dall'iniziativa individuale o di un gruppo di persone e quindi non possono Marina ti prego di sì ma comunque penso di aver detto di essere no no penso di aver detto quello che era essenziale credo che avete gli elementi per grazie penso che mi posso limitare questo grazie non ho altri c'è una domanda anche un chat o qualche qualche contributo io invece mi aggiungo e volevo chiederti sul concetto di decrescita si parla molto in questi momenti in questi anni di questa inversione di tendenza allora io sono in contatto anche con compagni diciamo che vivono in altre parti del mondo che guardano con sospetto il fatto che si voglia impedire loro di avere benessere che abbiamo noi usando il termine decrescita quindi come come vedi tutto questa dicotomia tra appunto il mondo occidentale che guarda la decrescita come fine dello sviluppo e dall'altra parte come invece possiamo immaginare un tipo di società che comunque crea le condizioni per una migliore benessere condizioni di vita migliori anche nelle altre parti del mondo e poi c'è una breve domanda di Luigi Pavalà e poi ti ridò la parola aspetta potrei fare anche un intervento anch'io poi così prego dopo Luigi buonasera la mia volevo un semplice chiarimento su quel riferimento al lato oscuro della rivoluzione scientifica moderna perché io lui e viale giustamente è partito da Cartesio ma ricordo che padre Mersenne non ha anche l'alcologetica cristiana e allora non ha respinto la scienza moderna ha tentato di sradicare la scienza moderna dalle filosofie liberatrici del rinascimento cioè di impedire la fusione della rivoluzione scientifica con tutto il mondo rinascimentale Giordano Bruno è molto più ricco di Galileo non aveva ridotto a quantità il mondo e non aveva scisso materia e corpo e spirito corpo e anima Spinoza poi lo riprende però lì c'è stato il lato oscuro cos'è questa mancanza di saldatura con le filosofie liberatrici del rinascimento è chiaro che la riduzione a quantità anche se in Galilei diciamo è un discorso un po' più complesso però non anche fattualmente c'era un'alternativa che si affermasse questa rivoluzione scientifica in questo modo e sradicandosi dalle filosofie liberatrici che pure ci sono stati nell'umanesimo e nel nascimento italiano di quel tempo grazie Piero allora io volevo riferirmi l'intervento di Gigi favorisce diciamo il tema che voglio introdurre Guido ha ricordato come Heidegger ricordi il fatto che tutta l'umanità guarda la natura come un fondo da sfruttare lui spesso Heidegger parla spesso di cava di cava da cui ricavare i materiali per la riproduzione economica e sociale io credo che questo sia un concetto limitato cioè un concetto che guarda la natura come quantità chi ha rotto diciamo questa concezione spostando in avanti la visione complessiva del mondo naturale è stato Edgar Morin che nei volumi della metodo ha mostrato come il mondo è una rete complessa diciamo di rapporti tra ambiti diversi e naturalmente poi il concetto il concetto di ecosistema elaborato nella cultura nella cultura biologica diciamo tedesca ha portato dei contributi ma è stato Moren che ha mostrato come la natura non è solo quantità ma è anche qualità è anche equilibrio allora io voglio fare due esempi qui molto rapidamente che mostrano come funziona diciamo il disequilibrio creato dallo sfruttamento dissennato e inconsapevole degli uomini guardiamo i concimi chimici in agricoltura i concimi chimici hanno come effetto intanto di uccidere la sostanza organica quindi di sterilire la terra la terra dopo decenni di concimazione chimica muore le piante crescendo in un ambiente così artificiale si ammalano e hanno bisogno naturalmente di pesticidi per sopravvivere ma la concimazione chimica inquina le falde acquifere con i nitrati e non basta perché queste diciamo le sostanze nutritive contenute nei concimi chimici vengono dilavate dalle piogge finiscono nei fiumi dai fiumi vengono trasportate al mare e nel mare creano il processo di eutrofizzazione e la proliferazione delle alghe che uccidono la vita ci sono estese baie marine tra queste il golfo del Messico e la più famosa che sono definite dead zone cioè zone morte dove viene danneggiata l'economia della pesca di intere popolazioni un altro esempio forse più nitido sì stringo allora vedo che il dibattito è un po' senza allora cerco di fare qualche contributo pensate allo scioglimento degli acciai e lo scioglimento degli acciai sembra un fenomeno a sé ma produce intanto il prosciugamento dei fiumi e questo è un grande danno economico che tutti vediamo ma c'è un altro aspetto che sfugge alla considerazione generale e cioè il fatto che le spiagge e le coste sono private dall'apporto dei materiali solidi condotti dai fiumi per cui le coste sono sottoposte a erosione quindi lo scioglimento degli acciai ha come esito anche la riduzione delle nostre coste che vengono mangiate dai moti o dosi del mare quindi diciamo bisogna guardare non solo alla quantità all'esauribilità delle risorse ma alla natura come un complesso di ecosistemi che stanno in equilibrio grazie grazie Guido a te grazie l'intervento di Marina mi consente di ribadire l'importanza secondo me della distinzione tra conversione e di un riferimento a valori spirituali che sicuramente sono problemi di connessione mi senti sia nel pensiero di Alex Lang che sia il prodotto Guido ci senti? Sento non si sente Guido ma problemi connessione internet ecco adesso io ho il microfono aperto la mia connessione in questo momento c'è non è mai venuta meno mi sentite? adesso sì sì mi sentite? ora sì allora conversione io uso questo termine che naturalmente è stato introdotto da Alex Langer e poi utilizzato molto da Papa Francesco nella sua encircica con una valenza che fa riferimento ai valori cristiani in cui io non mi riconosco sono altro ma tornare a quantità di consumi che si fanno cioè non è possibile pensare che con energie rinnovabili o con le quantità di acqua che non avremo a disposizione tra l'altro i due processi sono molto strettamente legati perché oggi gran parte degli indi in Francia si è già verificato per diversi centrali nucleari proprio perché manca l'acqua per raffreddarsi quindi manca l'acqua per l'agricoltura manca l'acqua per le case manca l'acqua anche per l'industria ma mancherà l'acqua e sta mancando già l'acqua anche soprattutto per la produzione energetica ma non è pensabile che si possa arrivare a riconciliarsi Guido prova a chiudere la camera e vediamo se forse consuma troppo banda adesso mi sentite se no prova a spostarmi no no va bene adesso ti sentiamo benissimo va bene allora io l'ho fatto anche presente un recente articolo che Piero ha avuto la bontà di diffondere sul negazionismo di fatto che caratterizza molto anche dell'attuale ambientalismo non è possibile pensare di rimediare esclusivamente con soluzioni tecniche alla tendenza che hanno assunto i consumi all'interno delle società occidentali e meno ancora ovviamente alla diffusione dello stesso stile di vita e gli stessi livelli di consumo anche in tutto il resto del mondo che poi rappresenta l'ottanta per cento della popolazione mondiale per questo ci vuole una svolta radicale che metta al centro prima ancora che contestualmente ovviamente ma dando la priorità alla riduzione dei consumi energetici alla riduzione dei consumi di acqua Piero potrebbe molto spiegare come esiste un'agricoltura che è possibile che ne consuma molto meno e molti economisti sanno benissimo e hanno detto e documentato eccetera che anche con l'attuale standard di vita che io ritengo insostenibile comunque si potrebbe risparmiare il 40% dell'energia che viene attualmente consumata esclusivamente adottando in tutti i campi delle pratiche di riduzione dei consumi questo è il problema centrale cioè le persone prima o dopo lo capiranno perché ne subiranno le conseguenze del modo stravagante di vita che noi conduciamo che non è possibile continuare a vivere nello stesso modo in cui siamo vissuti attualmente moltiplicando e adottando pratiche e tecniche con minore impatto ambientale senza una radicale conversione cambiamento del nostro stile di vita quindi del nostro consumo delle nostre adozioni che non vuol dire sacrificio perché in molti casi significa miglioramento per esempio un'agricoltura non industrializzata significa miglioramento della nostra alimentazione e della nostra salute one health un consumo energetico più bassi vuol dire per esempio decogestionare le città dal traffico automobilistica restituirli alla vita sociale ridurre quel turismo di mero consumo dei territori altrui che non ha nessuna valenza culturale e sempre di più si trasforma in una distruzione dei territori altrui e così via ci sono tanti settori in cui è possibile pensare a una vita migliore anzi è necessario pensare a una vita migliore con riduzione dei consumi però questa cosa qua va programmata ma va programmata non a livello nazionale perché non lo farà mai nessuno fino a che governeranno le persone che ci hanno governato fino adesso sia di destra che di sinistra eccetera bisogna che la cosa nasca cresca e si sviluppi all'interno dell'iniziativa dal basso e quindi attraverso la creazione di comunità o comunque di reti che preludano alla costituzione di comunità per affrontare problemi energetici problemi dell'acqua problemi dei trasporti il problema della mobilità il problema dell'entertainment della cultura del divertimento eccetera in maniere meno dispersive di quanto fanno adesso e questo secondo me è un compito prioritario e va affrontato con la giusta denuncia di quel finto ambientalismo che ritiene che basta cambiare alcune cose e la vita possa procedere come prima la cartina del tornasol io l'ho anche scritto in questo articolo la cartina del tornasol di questa visione è proprio l'automobile non è possibile che nel mondo si diffonda un tasso di motorizzazione come quello che esiste in Italia un'automobile ogni 1,7 abitanti o in Europa un'automobile ogni 2 abitanti noi siamo in testa questa cosa qua in tutto quanto il mondo vorrebbe dire dal 2050 avere 5 miliardi di automobili su strada non è possibile pensare a una cosa di questo genere e quindi bisogna adottare dei metodi di trasporto di mobilità che siano meno impattanti ci sono ci sono le tecnologie per farlo costano meno migliorano la vita urbana e la vita delle persone fanno risparmiare tempo il problema e fornire degli esempi concreti o comunque un'educazione ambientale concreta e si può percorrere questa strada e questa è la risposta che noi possiamo dare a tutti i paesi del cosiddetto sud del mondo che giustamente aspirano a raggiungere gli standard di vita dell'Occidente perché sono molto migliori di quelli a cui loro sono costretti o abituati eccetera ma la cosa è impossibile cioè è possibile raggiungere degli standard di vita come quelli occidentali se gli standard di vita occidentali avranno come obiettivo una riduzione drastica di alcuni consumi e di alcuni mezzi che ritolano e così vengo alla seconda domanda quella della decrescita io ho sempre incontrato due volte Latuscio glielo ho detto anche in faccia pur considerando un amico è una persona di grandissima importanza la parola decrescita è orribile perché lascia pensare a una riduzione degli standard di vita della qualità della vita della ricchezza della vita mentre nelle intenzioni di Latuscio come di tutti coloro che perseguono qualche forma di conversione ecologica esattamente è lo stesso il contrario noi vogliamo accrescere la ricchezza la soddisfazione la capacità di relazionarsi della vita quotidiana proprio attraverso un modello di vita e di consumi che siano diversi e che possano essere adottabili tutte le volte che io mi richiamo all'importanza del localismo cioè dell'iniziativa locale come strumento fondamentale per cambiare il mondo per due motivi primo perché solo all'interno di una comunità si possono elaborare veramente e sperimentare delle soluzioni pratiche anche se parziali al cambiamento climatico ma secondo perché soltanto la costruzione di comunità locali concorre alla creazione di quella forza necessaria per far cambiare rotta anche ai governi qualsiasi essi siano senza la forza che si costruisce a livello locale non c'è speranza che a livello governativo possano cambiare le coste ma il localismo che io propugno ha una regola fondamentale vale solo quello che è replicabile naturalmente adattandola ad altre situazioni in contesti completamente differenti ciò che non è replicabile non è adottabile quindi quando i localisti della Lega propugnano il rinchiudersi all'interno della propria comunità territoriale restringendo tutti i corpi estranei in particolare i corpi degli uomini che vorrebbero una vita migliore o semplicemente la possibilità di vivere nel loro territorio eccetera questo non è replicabile ovunque è una cosa che vale esclusivamente per quelli che lo perseguono a spese di tutti quanti gli altri invece le energie rinnovabili se fatte contestualmente al risparmio energetico è una cosa che è replicabile in tutto il mondo ed è la soluzione che ci deve essere per quello che riguarda le questioni energetiche ai problemi della crisi ambientale indubbiamente questo richiede un cambio di prospettiva radicale per questo che io parlo di conversione e cioè una visione del nostro rapporto non più con la natura perché la natura è per Bruno Latour esattamente la caratteristica un'invenzione della modernità un rapporto fra noi fra gli esseri umani e il resto del mondo fondato sulla percezione e la valorizzazione della contiguità della continuità fra il vivente non umano e la vita umana cioè senza questo cambio di prospettiva che richiede una conversione non ai valori religiosi di Papa Francesco o di Alex Langer ma ai valori culturali che antropologi scienziati e medici eccetera stanno mettendo i vigli in luce come condizione per garantire la salute degli esseri umani e dell'ambiente e no su quelle cose che ha detto Piero io sono assolutamente d'accordo insomma ci sono migliaia di esempi che ci fanno capire ormai sono sotto i nostri occhi come continuare la vita perpetuare lo stile di vita a cui noi ci siamo abituati sia insostenibile e sarà la natura stessa cioè l'evoluzione dell'ambiente sotto lo stress della crisi climatica ambientale a imporci un cambio di paradigma ma un conto è se questo cambio ci viene imposto dal caos che si viene a creare a causa della crisi climatica e della crisi ambientale in parte se noi cerchiamo di regolarlo e di programmarlo e di gestirlo e di governarlo eccetera ora io non penso che si possa oggi come oggi riposare esclusivamente o prevalentemente sulle scelte che avvengono a livello governativo e quindi penso che la conversione ecologica o la transizione che dir si voglia avverrà e deve avvenire a macchia di leopardo cioè quei territori che riescono a praticare alcune delle soluzioni alla portata di mano alla portata di realizzazione per affrontare i problemi imposti dalla crisi eccetera fanno da esempio se le soluzioni adottate sono replicabili per tutte quante gli altri senza aspettare che sia il governo adottare queste soluzioni il che non vuol dire rinunciare a imporre al governo dove possibile certe scelte io ho partecipato all'organizzazione alla promozione per esempio della rivendicazione della comunità di Civitavecchia perché venga sostituito l'attuale impianto a carbone con grande parco eolico galleggiante lungo la costa tirrenica e penso che forse questa battaglia è stata vinta ed è una delle punte di maggior interesse del conflitto sociale oggi in Italia perché è fatto è stato portato avanti da una comunità che si è creata all'interno della città ha degli obiettivi ambientali di carattere generale ma molto importanti e soprattutto il progetto è stato elaborato dal basso adesso arriveranno grande imprese multinazionali eccetera a realizzarlo non si può chiedere a una comunità di realizzare un impianto di quelle dimensioni però il progetto iniziale la concezione della possibilità di farlo e le prime indicazioni su come e che via seguire per realizzarlo è il frutto di una elaborazione del basso e questo secondo me è la parte più innovativa del conflitto sociale che oggi ci troviamo di fronte di rispetto alle forme tradizionali che il conflitto sociale e la lotta di classe ha avuto negli anni passati cioè la rivendicazione e non la elaborazione di un progetto dal basso grazie Guido e prima di chiudere ridò la parola a Piero così ci dà anche appuntamento alla prossima lezione per ecco Piero intanto va bene grazie grazie affettuoso a Guido per questa splendida lezione una serata anche ricca diciamo di argomentazione sia degli intervenuti che nelle repliche dello stesso Guido la prossima lezione sarà tenuta da Nabil Salame e si intitola uno sguardo sul mondo arabo giovedì 6 aprile e voglio ricordare che diciamo la scuola è una scuola interdisciplinare ma anche cosmopolita e noi su questo secondo versante siamo stati per la verità del tutto assente quindi cominciamo ma il prossimo anno se ci saremo cercheremo di rimediare cerchiamo di diciamo di tenere fede al nostro assunto cioè di rovesciare o comunque di arricchire una visione che è tutta eurocentrica con la voce di altri mondi altre culture altri linguaggi grazie a tutti e grazie a te Roberto che ci aiuti sempre e buona serata ciao Guido buonasera buonasera a tutti buonasera ciao Piero ciao 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 ciao